buon giovedì a tutti buon giovedì sera a tutti tanto chi c'è qua guardate un po è proprio adesso adesso mio nipote mi manda mi manda questa cosa della quale parlavamo lui e dio qualche giorno fa dice sky milan prove di difesa 3 in vista del derby sale maker probabile titolare me l'ha mandato proprio adesso adesso qui ora di udina 18 e 26 nel fuso orario locale ecco neanche detto neanche detto io io modestamente lo nacqui modestamente lo dissi l'altro giorno non è che a questo gli viene così ghiribizzo di mettersi a specchio con l'inter speriamo di no siamo giovedì quindi tempo per rinsavire c'è fino a domenica eccetera 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 allora intanto io voglio ricordarvi che domani sera c'è friday min live e voglio ricordarvi che al 366 11 129 eppure 64 potete mandare i vostri messaggi whatsapp vocali magari ecco vi chiedo solo la cortesia se mandate vocali che non siano molto lunghi perché va bene che sia che abbiamo un sistema semi automatico ma però diventa un po difficile poi da gestirli tutti domani sera potete partecipare anche in diretta abbiamo risolto tutti i problemi tecnici con una bella scheda audio qui che ci darà una gran mano ad ascoltare la vostra voce perché è importante perché da tanti perché voi date tanti contributi alle trasmissioni le fate voi fondamentalmente ma non solo le fanno anche i miei amici della compagnia della live che sono persone vedete non sono solo amici e milanisti e già questi sono due fattori importanti ma sono persone proprio sono delle bellissime persone io ho veramente avuto la fortuna di incontrarli e di condividere questo pezzo di vita insieme e devo davvero dire la verità che sono delle persone e pensate che non ci siamo mai incontrati noi di persona personalmente non ci siamo mai incontrati quindi immaginate è tutto è tutto così via via immagini no però un giorno accadrà faremo una diretta meravigliosa naturalmente ma devo dire ecco io voglio ringraziarli voglio ringraziarli per per come sono per come sono poi dopo è chiaro che come dire ci sono anche delle cose che li rendono meravigliosi tante piccole cose nel giorno dopo giorno ad esempio questa mattina dato che stiamo come dire stiamo discutendo su come fare a giugno una serata speciale non dove si parla di calcio dove si parla di musica una serata speciale interamente dedicata alla musica densa anni 90 quindi dal 90 al 99 poi dopo dove andremo in onda io non lo so perché se andiamo su youtube è bello che è finito ma troveremo una piattaforma disposta ad accoglierci e a fare questa questa serata e questa mattina emanuele mi manda la playlist di spotify che sta ascoltando con le canzoni dance degli anni 90 allora tu come fai a non voler bene uno così per forza di voi bene per forza io voglio molto bene anche a mio nipote ma veramente tanto anche se mi manda queste cose mentre registro un video che come dire ci fanno andar di storto l'idea della cena neanche la cena la sua idea perché non abbiamo ancora accenato in ogni caso è stata una buona giornata sono riuscito anche a rinnovare la mia carta di identità in meno di un quarto d'ora e quindi ringrazio le signore del comune sono state molto gentili e adesso parliamo di pallone finalmente perché voglio dire una cosa voglio voglio dire una cosa perché l'altro giorno mi sono imbattuto in un'intervista al nostro patron si dice patron credo il patron gerry cardinale al nostro a colui diciamo che ufficialmente è il nostro proprietario quindi gerry cardinale gerry cardinale che noi tutti raffiguriamo in maniera scherzosa ma per detta sua come diciamo il signor red bird perché vedete sui giornali si scrive red bird stamattina bellissima red bird avrebbe preferito ziec a zagnolo poi sta di fatto che non è arrivato nessuno dei due mi domando come si faccia insistere anche giornalisticamente parlando anche da un punto di vista lessicale a insistere su questa cosa red bird non è un essere umano cioè riferirsi a red bird come se fosse una persona un'entità fisica cioè una persona fisica è una ficizia direbbe manuele detto questo detto questo noi ci immaginiamo al nostro presidente come seduto sul divano un divano oppure anzi meglio una sala cinema avete mai visto quelle trasmissioni televisive dove vi fanno vedere la casa di jc ad esempio credo sia anche vecchio ormai ma io sono rimasto quei tempi lì e c'ha la sala cinema quindi una splendida sala cinematografica in casa e io mi immagino gerry cardinale lì con la maglia numero 10 di brain dias che lui non saprà ovviamente nemmeno che faccia abbia ma questo è normale per questo anche di racconti che red bird preferisce un giocatore all'altro li vanno a fare a qualcun altro e ci immaginiamo così no ci raffiguriamo con i pop corn tipicamente o i marshmallow insomma tutte queste cose qua che piacciono agli americani e avanti così poi in realtà lo intervistano e dice delle cose che andrebbero queste si riportate tanto quanto le parole di sciocco presidente della fiorentina signor rocco commisso il quale nel gruppo telegram trovate nel gruppo telegram news trovate le sue dichiarazioni non le ho postate ho postato proprio il video trovate signor commisso che insomma adesso gli si può dire tutto gli si può imputare come dire una certa tendenza allo show che poi è il suo mestiere ma in ogni caso non è uno che le manda a dire dopo si potrebbe dire che però gli affari con la juve li ha fatti lo stesso beh sì però sa da campare questo bisogna dirlo e oggi insomma anzi ieri sera ha tirato un bel po di bordate rispetto al sistema italiano su una cosa ha ragione in italia si parla molto e si fa poco noi invece siamo in un raro caso di gente che non solo parla molto ma fa anche molto meno per quel che mi riguarda sì e anche voi e quindi noi siamo un'anomalia nel sistema italiano però in realtà quello che ha detto rocco rimanda un po anche come dire alle parole di rocco su di noi ricorderete sicuramente le parole su cardinale insomma sul fatto che lui effettivamente non ci abbia messo un euro a differenza di commisso cosa che da un lato come dire è molto forte come messaggio dall'altro è un'imprecisione perché chiaramente redbird è un fondo di investimenti nel quale convogliano denari messi da altri alla ricerca di profitto e quindi parlare come dire paragonare le due cose non ci sta quello che però è certo che fino a questo momento diciamo da parte di cardinale per il mercato del milan non è stato messo cioè non non sono stati deliberati fondi poi vedremo la prossima estate ritorno sul concetto che va bene che secondo me è giusto imprimersi nella testa piuttosto che pacottiglia è meglio niente piuttosto che niente sarebbe stato meglio un portiere vista è anche le condizioni di menian che continuo avere questa questa ferita che non si rimargina comincio già a sentire anche delle cose sinceramente un po come dire un po spiacevoli perché si va sempre nel campo delle ipotesi azzardate quindi cose personali quindi cose diciamo che io tralascio tralascio perché non non è giusto parlare di queste cose più facile forse ricondurre tutto a quello che scriveva oggi la gazzetta ad esempio su pocba cioè sul fatto che abbia forzato la mano per anticipare i tempi per andare a fare sto benedetto mondiale che quindi lì si sia compromesso qualcosa certo è che adesso attendiamo al varco tutti perché insomma un diagnosi che di sei mesi in sei mesi si sposta senza avere una luce in fondo al tunnel è sinceramente un'anomalia è un'anomalia perché credo che da un punto di vista clinico insomma un minimo di 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 idea a questo punto ce la si possa avere no ecco invece pare che ma rientra col tottenham no rientra dopo vedremo vedremo adesso stiamo al varco adesso non ne parliamo più perché tanto inutile parleremo solo del derby da domani ma torno tra poco torno alle parole di cardinale dico solo questo che vi aspettiamo al varco perché se se la gestione di menian è quella che che molti sospettano beh sinceramente sinceramente così non si fa così non si fa quindi io voglio meniani in campo voglio meniani in campo bene anzi molto male molto male ma detto questo parlavamo delle parole parlavamo dell'intervista a cardinale intervista naturalmente fatta negli stati uniti intervista della quale in italia non c'è praticamente traccia perché da noi dire arriva un po quello che vuole arrivare quindi certi messaggi anche sinceramente anche queste cose che red bear voleva una cosa ma l'area tecnica voleva un'altra io non so io mi auguro di cuore che siano invenzioni dei giornalisti e che non siano altro non voglio neanche pensarlo ma che siano semplicemente così delle ricostruzioni fantasiose di giornali che ogni giorno vanno riempiti di qualcosa e più si fa polemica e meglio è no ecco cosa che non è nel nostro stile quindi lasciamo stare questo discorso però cardinale dice io dice mi sono trovato di fronte a delle difficoltà perché dice io intanto si lamenta del fatto che del fatto che ci sono vincoli molto forti negli stati uniti per acquistare club di della nfl che dice bisogna essere molto ricchi per per acquistare un club della nfl ecco anche questa è una cosa interessante nel senso che non mi sembra un regolamento tanto stupido onestamente anche per evitare manenti e compagnia o quello vi ricordate quello la che quello lo sceicco che doveva comprare la roma era uno sceicco non mi ricordo un arabo non mi ricordo che cosa fosse insomma con quale qualifica si presentò davanti alle porte di trigoria i cancelli di trigoria cercando di entrare di comprare tutto senza una lira naturalmente ma ricordate ecco e comunque dice si stupisce di questa cosa no però dice in europa il mercato più libero dal punto di vista di trattative di acquisti di vendita eccetera eccetera però dice intanto non mi piace il il sistema delle retrocessioni che una cosa che da loro non c'è per cultura sportiva e poi dice c'è questa cosa del mercato e si dice questa cosa del mercato no io dice questa cosa della campagna trasferimenti sono delle cose che non allora fatto salvo che cercherò di recuperare l'intervista magari di pubblicarvela da qualche parte però ecco insomma se uno acquista se uno ipoteticamente facciamo un caso no non è questo facciamo un caso uno decide mi metto in posizione così allora uno decide di acquistare una squadra di calcio lo fa attraverso un'operazione che ha destato così scalpore per molti ma in realtà un'operazione che nel mondo della finanza è piuttosto consueta cioè quella di farsi prestare una parte del denaro metterlo nell'investimento e poi restituirlo in modo che tu possa fare l'affare e chi vende possa restare dentro e prendere i soldi degli interessi avendo comunque a pegno idealmente il bene che ha venduto perché un domani se gerry dovesse decidere che la 10 di diaz non gli piace più e come dire sbracare ecco che eliot si riprende baracca burattini a meno che naturalmente poi non si faccia quello per cui sono venuti e cioè lo stadio ovviamente per loro non per noi nel senso che abbiamo già parlato di quelli che sono di quelle che sono le variazioni rispetto all'entrata di uno stadio di proprietà ecco ma al di là di tutto questo insomma le parole sul mercato sinceramente lasciano un po' perplessi di osservatori milanisti incluso il sottoscritto perché se è vero che non è uno che arriva non è quello di prima cioè questo almeno le quattro foto c'erano su internet ci sono dati della società c'è una sede non è che vi ricordate di scarafaggi nella cassetta nel cestino della sede del fosforoso Yongon Lee questo almeno esiste ecco questo c'è dopo chi sia non lo so le intenzioni però cioè insomma se hai fatto questa cosa qui sapevi in quale mercato andavi a fare businessi come direbbe Rocco e quindi non lo so non lo so non voglio dire nulla perché nulla c'è da dire resta soltanto così un po' di un po' di sospetto un po' di sospetto perché poi se volessimo allargare il campo e volessimo fare un po' di ipotesi sempre naturalmente attenzione attenzione non ho il naso rosso se non lo metterei ma siamo sempre in Katzenger qui eh quindi siamo nel complotismo più spinto però può essere che come dire ci sia un qualcosa che non funzioni in tutto questo in tutta questa cosa che si è messa in piedi ora non lo sappiamo lo sapremo però prima o poi perché chiaramente se a fine stagione le cose dovessero andare a remengo e quindi noi non si riuscisse a conquistare l'obiettivo minimo cioè l'ingresso nei primi quattro perché poi io spero che Jerry abbia bene in testa una cosa che nel calcio un prodotto che tu acquisti e che vuoi rivalutare si rivaluta solo attraverso i risultati sportivi e non certo attraverso come dire la wanna ganate le media company nel power ball money ball e tutte queste robe qua perché queste sono le classi ecco a wanna ganata è proprio questa la definizione eh quindi deve avercelo ben stampato sulla fronte si rivaluta attraverso i risultati sportivi quindi nel caso in cui a fine stagione i risultati sportivi non dovessero arrivare e non si riuscisse a centrare l'obiettivo minimo ma proprio minimo 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 per una squadra che è campione d'italia quindi l'ingresso nella Champions League beh vediamo che cosa succede vediamo perché io vuoi dire domani 16 18 e 30 no sono ancora a lavoro alle 18 e 30 però sono qui sarò qui vi aspetto la scheda audio nuova vi aspetto con le vostre telefonate i vostri sentiremo i vostri vocali sentiamo tutti domani forse passano anche gli amici della compagnia della live li sentiamo tutti perché li ho tenuti anche tutti quei tanto sono sempre d'attualità nel senso che parlano della partita di domenica quindi eh sono quelli li sentiremo le vostre voci le vostre telefonate tutto quanto mi raccomando passate una buona serata e non dimenticate una cosa importante anzi due cose importanti la prima comunicazione di servizio che devo fare all'inizio faccio alla fine Roberto Marchingiglio è pregato di scrivermi su whatsapp deve mandarmi un messaggio perché mi ha mandato un vocale l'altro giorno il messaggio il sistema cancella automaticamente il messaggio e salva l'audio nel caso di messaggio con audio se avete comunicazioni importanti di non so se volete spedirmi dei fiori se volete invitarmi a cena tutte queste cose lo scrivete su whatsapp se perché se no poi il sistema automaticamente quindi Roberto per favore scrivimi il tuo numero così posso risponderti su quella cosa che sappiamo tu ed io seconda cosa oggi è il giorno della marmotta quindi stasera vi voglio tutti davanti al televisore a guardare ricomincio da capo film con Bill Murray sul giorno della marmotta commedia bellissima se non l'avete visto fatelo e poi dopo magari ne parliamo domani se volete telefonare per fare un po di cineforum e trovare conforto in questo pazzo milan ciao a tutti